Zaino Sospeso, questo il titolo dell'iniziativa proposta dal Lions Club Schacca Host, un modo per raccogliere e donare materiale scolastico di vario genere alle famiglie bisognose della città. Da oggi sono stati attivati quattro punti di raccolta, uno di questi si trova presso la cartoleria Anastasi di Schacca dove siamo stati questa mattina. Zaino Sospeso è un service multidistrettuale che è nato qualche anno fa in Puglia e che ha avuto grande successo, tant'è che il multidistretto Italy lo ha adottato come service permanente. Cosa si tratta? Si tratta di portare, collaborare con le cartolerie che aderiscono e raccogliere nel periodo soprattutto scolastico, prescolastico, dove le famiglie più abbienti, quelle più facoltose, comprano magari il materiale per i propri figli, creare dei contenitori per ricordarsi delle famiglie purtroppo di tanti bambini che invece sono in grave disagio. E con l'aumento soprattutto della diminuzione delle nascite italiane e con l'aumento degli immigrati, le classi elementari, le classi diciamo sono piene di bambini, di famiglie che veramente non arrivano nemmeno a poter comprare il materiale scolastico. Ecco perché loro i Lions hanno pensato a questo service. Con la collaborazione chiaramente di quattro centri raccolta che sono la cartoleria Russo e Russo, la cartoleria Anastasi dove siamo in questo momento, la cartoleria Grafite di Donatella Cerrito alla Perriera e la cartoleria Cartovidea di Alessio Bruno di fronte al Classico. Che cosa si può donare? Si può donare tutto materiale scolastico, dai quaderni ai libri, agli zaini, alle matite, alle gomme, ai righelli, tutto quello che serve per correddare i bambini più bisognosi praticamente. Poi noi periodicamente, come un servizio permanente iniziamo ora ma lo porteremo avanti fino per tutta la durata del periodo scolastico, noi periodicamente ci auguriamo di poter venire a svuotare i contenitori per fornirli poi ai dirigenti scolastici che ci indicheranno le famiglie e soprattutto anche alle care tasse parrocchiali. Noi infatti cerchiamo la collaborazione anche delle care tasse perché loro sanno e conoscono già i bisogni di queste famiglie e quindi l'anno scorso solo che hanno fatto un servizio simile a questo, praticamente non Lions, è inutile farne due o tre e cerchiamo di accorpare queste idee e di portare avanti questa iniziativa. Possiamo aggiungere ricordando un motto dei Lions che viene riportato in tutte le nostre locandine, che dove c'è un bisogno c'è un Lions. Questo vuol dire che i Lions non si occupano soltanto delle cause umanitarie globali che interessano l'area sanitaria ma percepiscono i bisogni più sottili della società di oggi, che è sempre più povera e che interessa fasce sociali sempre più ampie e quindi non bisogna avere timore di esprimere una necessità, un bisogno, soprattutto i genitori che devono seguire i loro figli possono rivolgersi alle persone designate che raccoglieranno questo materiale che noi cerchiamo di donare, di offrire per seguire l'anno scolastico. Infatti sapete, ha detto già il nostro Presidente Marco, che è un service permanente, significa che dall'inizio dell'anno scolastico fino al mese di maggio questi centri di raccolta verranno mantenuti attivi, verranno, ci auguriamo, rimpinguati dal vostro buon cuore, che tutta la popolazione possa essere presente, perché noi siamo fanalini, abbiamo questa iniziativa, promotori di questa iniziativa, ma ci auguriamo che la comunità tutta cittadina possa collaborarci, perché da soli non si va da nessuna parte. E quindi potete benissimo, mi rivolgo l'invito esteso a tutta la cittadinanza, di collaborarci in modo tale da ottenere risultati sempre più vincenti, sempre più significativi.